... Nel calice Ornellaia 25 lo sto assaggiando insieme a Sergio Di Loretto qui al Merano Wine Festival. Intanto noi siamo una delle poche aziende che sono sempre state presenti al Merano Wine Festival, quindi è la ventiduesima volta, in pochissimi ventidue volte, fra questi anche noi fin dal 92. L'affluenza ovviamente è altissima e cerchiamo ovviamente di accontentare tutti quanti, c'è sempre un capannello davanti alla nostra postazione di Ornellaia, 25ennale ha incuriosito molto, un po' per questa etichetta che abbiamo voluto fare una tantum per festeggiare questi 25 anni. Solo quest'anno, solo questa volta, 25 anni per noi è una data importante perché siamo un'azienda relativamente giovane. Questo vino più precisamente come viene prodotto? Intanto viene prodotto nella tenuta dell'Ornellaia, all'Ornellaia è il vino dell'Ornellaia, il vino principale, l'anima, viene prodotto ovviamente con una cura maniacale della qualità, quindi soprattutto in vigna, il vino si fa in vigna, quindi un lavoro in vigna interminabile, molte ore ettaro più di quante se ne impieghino normalmente. Ovviamente è il genius loci che fa la differenza, Bolgheri, Ornellaia, un luogo dove per fortuna per le condizioni pedoclimatiche, suoli diversi, la vicinanza del mare, la grande luminosità data anche dal mare a ovest, a sud-ovest, quindi riflette la luce del sole, ovviamente dei vitigni che sono fondamentali, il Cabernet Sauvignon, il Merlot, il Cabernet Franche, il Petit Verdot, vengono tutti vinificati separatamente, partiamo da circa 70 vini diversi, che fanno ognuno il suo affinamento per conto proprio, diciamo, almeno per il primo anno. Poi dopo un anno c'è questo panel di scelta, di selezione, presieduto dal nostro direttore di produzione, Axel Ayns, il nostro enologo e direttore di produzione, che a un anno circa dalla vendemmia decide l'assemblaggio del meglio del meglio ciò che darà Ornellaia, viene assemblato, fatta la massa di Ornellaia e reintrodotto nelle barrique per un ulteriore affinamento di circa 6-8 mesi, secondo annata. Protagonista di questo Marano Wine Festival, l'Ornellaia 25, io la ringrazio per essere stato con noi e buon festival! Grazie, altrettanto!